Che scalata! È così bello qui. È qui che è nato il tuo ordine. Nacque migliaia di anni fa, ma qui eri nato. Grazie a quell'uomo, Altair. Altair ibn Lahahad. Ci ha riunito, poi ci ha reso liberi. Capì la follia di mantenere un castello come questo. Era divenuto un simbolo di arroganza e un richiamo per i nemici. E l'obbligo del minaccioso cappuccio fu anche questa idea sua. Prima hai accennato a un credo. Che cos'è? Nulla è reale. Tutto è lecito. È alquanto cinico. Lo sarebbe se fosse una dottrina, ma è soltanto un'osservazione della natura della realtà. Dire che nulla è reale significa comprendere che le fondamenta della società sono fragili e che dobbiamo essere i pastori della nostra stessa civiltà. Dire che tutto è lecito, invece, significa capire che siamo noi gli architetti delle nostre azioni e che dobbiamo convivere con le loro conseguenze, sia gloriose, sia tragiche. Ti penti della tua decisione? Di aver vissuto come assassino? Non ricordo di aver preso una decisione. È stata questa vita. A scegliere me. Per oltre trent'anni ho servito la memoria di mio padre e dei miei fratelli. E ho lottato per coloro che hanno sofferto il dolore dell'ingiustizia. Non mi pento di quegli anni, ma è tempo che viva per me stesso e che li lasci andare. Li lasci andare tutto questo. Allora fallo. Non te ne pentirai. La fine del viaggio. Cosa speri di trovare oltre quella porta? Conoscenza, innanzitutto. Altair era un uomo assennato e un autore prolifico. Edificò questo posto come ricettacolo della sua saggezza. Vide molte cose nella sua vita e apprese molti segreti, inquietanti e strani, che avrebbero condotto alla disperazione a essere i più deboli. Questo ti preoccupa? Sofia, ormai dovresti saperlo, che non sono un debole. Ezio. Farei meglio a uscire vivo di lì. Lo spero anch'io. O che Россedi. Chè. Ho spero anch'io. Zio. Ho spero. Ho spero. È felice. Lo spero. Lì. Niente libri, né saggezza. Soltanto tu, fratello mio. Riposa in pace, Altaïr. È provveduto ai miei libri? Sì, alcuni li abbiamo affidati ai Polo. Gli altri verranno con me ad Alessandria. Bene, molto bene. Padre, una cosa non capisco. Perché costruire una biblioteca se non intendete tenere i libri a... Adesso va. Al ritorno dei Mongoli, Masyav deve essere deserta. Capisco. Non è affatto una biblioteca. È una cripta. Deve rimanere nascosta, al sicuro da mani avide, finché non avrà trasmesso il segreto che contiene. Quale segreto? Va, figlio. Va con la tua famiglia. E vivi con onore. Tutto ciò che di buono c'è in me, iniziò con voi, padre. Perché tanta è la saggezza, tanta è la pena. E colui che accresce la conoscenza, accresce il dolore. Che cosa ti dice? Che cosa vedi? Strane visioni e messaggi di coloro che vennero prima, della loro ascesa, della loro caduta. Ma che cosa ci accade, Altair? Alla nostra famiglia? Cosa dice la mela? Chi erano coloro che vennero prima? Che cosa li ha condotti qui? Quanto tempo fa? Liberati di quella cosa! Questo è il mio dovere, Maria. Maria? Dove... dove sei? Dov'è? Se ve lo chiedono, dite che mi sono disfatto della mela. Dite che l'ho mandata a Cipro, o nel Cipango, o che l'ho gettata in mare. Dite qualunque cosa tenga gli uomini lontano da qui. Questa mela non deve essere trovata. Fino a quando non perdere il momento? Fino a quando non perdere il momento? Fino a quando non perdere il momento? Un altro manufatto? No. Tu rimarrai qui. Ho visto abbastanza per una vita. Desmond? Sta parlando con me? Ho già udito il tuo nome una volta, Desmond. Molto tempo fa. E ora induge nella mia mente come un'immagine di un vecchio sogno. non so bene dove tu sia, né in che modo tu riesca a udirmi, ma so che mi stai ascoltando. ho vissuto la mia vita come meglio ho potuto, senza conoscerne lo scopo, ma tratto come una falena da una luna distante. E qui, al fine, scopro una strana verità. Sono solo un tramite per un messaggio che elude la mia comprensione. chi siamo noi benedetti a tal punto da condividere le nostre storie così, da parlarci attraverso i secoli? Forse risponderai a tutte le mie domande. Forse sarai colui che alla fine darà un qualche valore a tutta questa sofferenza. Adesso, ascolta. Riesci a sentirmi, nullità? Ce la fai a vedermi? Ah, eccoti qua. Bene. Strano posto, questo giunto temporale. Non ho molta familiarità. Con i calcoli. È sempre stato il campo di Minerva. Vedo che hai ancora molte domande. Chi eravamo? Che fine abbiamo fatto? Che cosa vogliamo da te? Otterrai le tue risposte. Basta che ascolti e io ti rivelerò come. Prima della fine e di ciò che ne seguì, noi tentammo di salvare il mondo. Costruimmo delle cripte in cui operare, ognuna dedicata a un diverso metodo di salvezza. le collocammo nel sottosuolo per evitare la guerra che infuriava di sopra e per precauzione nel caso i nostri sforzi fossero falliti. Il sapere di ogni cripta fu trasmesso in un unico luogo. Era il nostro dovere, mio, di Minerva e di Giunone, smistare e provare tutto ciò che era stato racconto. Scegliamo le soluzioni che ci sembravano più valide e promettenti e ci dedicammo con tutte le nostre forze a verificarne i meriti. Ne provammo sei in successione, una più incoraggiante dell'altra, ma nessuna funziona. E quindi il mondo finì. Scegliamo le soluzioni che ci sembravano più valide. Scegliamo le soluzioni che ci sembravano più valide. No, 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 no. No, no! No, 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 no! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! So che cosa dobbiamo fare.